Che ore sono adesso? Le 11.30. Da che ora hai qua? 6.75 e devo aspettare ancora. Dopo quasi 5 ore di attesa, l'improvviso cigolio di una finestra che si apre sulla fondamenta ogni santi annuncia l'arrivo del sospirato esito del tampone. Qui c'è anche chi arriva da Murano o Burano. I veneziani per fare un tampone devono venire tutti qui, all'ospedale Giustinian, dietro alle zattere a dorso duro. Vista la richiesta del periodo, le code sono quotidiane, così come il malcontento. Loro i politici sono là con la pancia piena e il suo stipendio e non hanno problemi. A Venezia, capoluogo di regione, nel ricco nord-est, questa è la situazione della fila per i tamponi che è assolutamente insostenibile per questa città. Una richiesta a cui è il caso di dire si accoda il consigliere comunale Marco Gasparinetti, oggi al Giustinian per la terza dose di vaccino, che a suo arrivo ha appurato una coda per i tamponi che arrivava fino a Santrovaso. Chi viene qui viene per un motivo, ha dei sintomi e quindi sono persone che non dovrebbero stare in piedi al freddo per 4-5 ore consecutive. Ci sono anziani, ci sono famiglie con i bambini e non abbiamo la possibilità a Venezia di fare la fila in macchina. È vero che le file esistono anche a Mestre e in piazzale Giustinian. La differenza è che a Venezia non abbiamo riparo, non ci sono neanche i bagni. La questione è oramai sollevata un po' ovunque, dagli utenti ai sindacati e ai consiglieri comunali. Propongo al sindaco, essendo lui a capo della città metropolitana, sindaco di Venezia e anche tutore della salute pubblica dei cittadini veneziani, di indire la conferenza dei sindaci per portare al tavolo le criticità che si sono presentate e che hanno urgenza di essere risolte. Proprio mentre registravamo queste interviste in conferenza dei sindaci, l'Ulstre ha rafforzato la collaborazione con le amministrazioni civiche. Il direttore generale Edgardo Contato ha chiarito che il territorio sta vivendo una pressione enorme della richiesta di tamponi e che l'azienda sanitaria sta coinvolgendo tutte le strutture operanti sul territorio ed in particolare le farmacie e le strutture sanitarie private. L'Ustre ha raddoppiato le linee operative all'ex Giustiniana e sta valutando in che modo introdurre corsie differenziate. All'orizzonte c'è tra l'altro un nuovo punto tamponi all'ospedale Fatebene Fratelli e soluzioni ad hoc per le isole.